è molle è molle la quarta ma se è quarta o quinta? quarta, è molle che cazzo stai facendo? sei pazzo? tu si è imbizzarrita da sola però terza salti via anche la radice ma tu dici guarda che quella radice ti fa saltare se la fai veloce dopo la devi recuperare si è recuperata così alla cavallino ha recuperata ottimo grazie 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 Grazie.